Ora, silenzio, codiamoci, vieni nazionali. Ora, silenzio, codiamoci, vieni nazionali. Ora, silenzio, codiamoci. Sono a caccia di una vittoria fondamentale, i tre punti darebbero il passaggio del turno. Bello il tipo, dalla parte e dall'altra ci sono le condizioni migliori per un grande spettacolo. Si comincia. Bene al fatto. Grandissima azione. La mette dentro. La mette dentro. La mette dentro. La mette dentro. Verticalizza. Occhio all'opportunità. Anders Benzo. Grande stacco. C'era spazio. Approvato. È riuscito a superare la difesa nonostante il poco spazio. di MSB transfert controlled. Che, alla vicina di Mercedes-based utilizzerai ed è riuscito a nåare in manteniativa. Ho finito, secondo me. Interferterà un'opportunità. importante ben sei mai ma l'invento in rinviare il portiere semplice di rinviare il salto idraimovic ecco il retropassaggio lui vuole il pallone cammina fuori Anders Benson prova a metterla in avanti troppa fretta di buttare il pallone in mezzo restituisce palla Nasri Ribery se ne sono andati più di 600 secondi dall'inizio della gara Ribery recupera il pallone si ricomincia dal portiere palla in out ci sarà rimessa laterale buon passaggio sulla fascia cross allontanato che avete rifatto pallone recuperato ben sei mai ha segnato un bel tiro pronto al centro della porta però non 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 buon passaggio sono andati ma ruota il è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ander Spencer. Idraimovic. C'è viene con sicurezza. Fisci. Grazie a tutti. Forse da più un po' lontano. Abbiamo visto vola anche da distanze maggiori. Riverino. Allora, c'è bene recuperato. 15 minuti acquisto finale di questa prima frazione. E' insieme. Non è fuori gioco. Cross controllando la difesa. Prova a crossarla in area. Andando superando la linea di fondo del campo. Se ripartirà con una rimessa. E' insieme. Un po' lontano. E' insieme. 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 Ma ha saputo trovare il giusto tempisto. E' mancata solo un po' di mira. Pardon. Riverino. Ibraimovic. Allora, che viene intercettato. Ficci in avanti. E' dunque rimesso laterale. Un po' di minuti alla fine del primo tempo. Con un gol. In questo momento a dividere le due spalle. Si propone la tarnetta. Bello assist. Strecato però. Questo è un bel tentativo. Ma il portiere gli ha legato il gol. Un grande intervento. Beirano. Buona azione sulla fascia. Quei voli. Una buona occasione. Un po' di minuti alla fine del gole. Un po' di minuti alla fine del bar. Anderfis. Lassi. Un po' di minuti al palu. asi. Un po' di minuti al palu. Se si recontrava questo palu. E' un po' di minuti. Sì. arriva il fisco dell'arbitro può bastare per questo primo tempo hanno mostrato spazi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa 1-0 fino a questo momento partita che rimane sostanzialmente equilibrata chi si collegasse soltanto ora sappia che si è perso davvero non il primo tempo ma ovviamente anche con gli altri 45 minuti si regalerà da vicino c'è un'occasione attenzione che spreco ottimo intervento nel portiere che attività era vicinissimo ha una possibilità Ibrahimovic pensi ma buona azione incestita ha letto bene il tempo dell'azione riveri benarpa ottima la lettura di percina pericolo non tirare ottimo intervento nel portiere si ha fatto un ottimo intervento i palloni verso terra sono sempre difficili ma lui è stato molto da è riuscito a passare occhio al cross sta arrivando in porta ottimo l'intervento che è lontano benarpa cambia gioco vede uscita ma i rami cazzo scegliere il passaggio non poteva far altro la difesa non lascia veramente spazio riveri riveri benarpa sono già due saltatori buon lavoro in pressing della difesa poi l'ultimo tocco è loro che è allora calciolato sarà un cambio per parte lui aveva già preso una munizione meglio evitare la seconda con la sostituzione non si fila spazza via questa è l'ultima sostituzione penso che l'allenatore stia cercando in questo modo di difendere il vantaggio cross al centro grande stacco di testa poivone calcio poivone ivraimovic carità al compagno nastri muove il movimento laterale segua la sua corsa è tutto solo ci sono dubbi cance di pulizia giusto ottimo dai vai il missile è tutto qui è perfetta la lettura di Felsino alza ancora centralmente ottima posizione c'è la possibilità di andare verticale la difesa adesso sta lavorando con lei può tirare cerca il tiro e arriva il gol e c'è il secondo gol uno dei criteri che sono il sogno di ogni attaccante riuscire a mettere la palla proprio nell'alberia un'alberia di Felsino Buon recupero del pallone Un'altra parte Adesso può ripartire Così Quise Idraibonics Tricolo calciolato Comodo Mi recupero della ripesa Una bomba Non ha trovato la rete Era libero ma non ha finalizzato bene Deve essere l'invozione della partita Certo che sbagliarono l'occasione così Ma qui Rami Nasri C'è anche il cross in mezzo Che stacco di testa Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte a calcio di posizione la squadra non sta facendo movimento non c'è nessuno a cui appoggiare il pallone la mente al centro ci arriva ecco dunque il primo eserfisco dell'arma ce l'hanno fatta una grande vittoria sono riusciti a premare i suoi avversari e ovviamente vedi un po' di fastezza una prova assolutamente subispatente completa la passavata preliminare potremmo evitare un palleggio un'ottimo pallone di marcia